Sono 3.811 nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Puglia nel consueto bollettino epidemiologico giornaliero. Le cattive notizie arrivano ancora dal numero di decessi, 12 quelli odierni. Il dato dei decessi è purtroppo l'ultimo a scendere rispetto a tutti gli altri parametri. Sono 25.375 i test effettuati, mentre in discesa sono gli attualmente positivi che arrivano a 74.265. Grazie anche ai 4.178 guariti scendono anche i ricoveri in aria non critica. Le persone attualmente ricoverate nei reparti covid pugliesi sono 557, mentre in terapia intensiva ci sono 31 pazienti. I casi provincia per provincia. Lecce si conferma quella con il maggior numero di nuovi contagi. 1.201 quelli odierni. Segue il barese con 1.023. Foggia con 546. Taranto conta 424 nuovi contagi. Labatt 293, Brindisi 287. Sono 29 invece i contagi di residenti fuori regione. In Puglia si sfiorano ormai 9 milioni di test effettuati da inizio pandemia, mentre sono oltre 750.000 i casi di contagio accertati e 7.700 i decessi registrati. In calo ancora l'incidenza di casi ogni 100.000 abitanti, arrivata adesso a circa 500.